Poi era passato per primo in vantaggio e in questi casi possono anche perdere le partite. Si va a Lecce e ancora una volta in sud porta fortuna ai nostri. È uno scontro frontale per abbandonare l'ultima posizione. Albiero, al quale il giudice federale ha condonato una giornata, riprende il suo posto e il Como fa sua la gara alla grande. Non è fortuna, ma voglia di vincere e dimostrazione di un ritrovato assetto tattico e carica agonistica. È ancora Borgonovo a sbloccare il risultato. Lo imita lo scatenato Corneliuson, accorcia le distanze Cauglio su calcio di rigore. Bissa Borgonovo ed Ilseu su calcio di rigore segna il suo primo gol in campionato e chiude la quaterna. Il Como stava al Calvari ed è terzo ultimo.